Buongiorno dal Touch con la rassegna stampa, la prima del Roma bufera. Sul sindaco e su nove staffisti, Martuscello chiede di pubblicare il curriculum tra i collaboratori uno di Forza Italia. Ride punitivo alla Torretta, pestati a sangue cinque pusher, gli strazzullo pronti a comandare. Il Napoli sa ripartire dopo le sconfitte e con l'Atalanta inizierà un altro ciclo in Serie B. Il Benevento pareggia con la Ternana e poi la cronaca pugnalato alla schiena. Volevano rapinarmi, sabato di sangue, in pieno centro storico. Pagine interne del Roma, migranti, il Papa, fermare gli scafisti. La Meloni faremo di tutto e convoca un Consiglio dei Ministri nel paese della tragedia. La strage in mare, si cercano ancora le vittime del naufragio. Dura, la NM, quello di salvare è obbligo, inderogabile. Guerra, fare tamponi a tutti. La stupidità del secolo, per usare un eufemismo, nell'inchiesta sull'emergenza Covid, le chat tra i vertici dell'IS, dell'OMS e del Ministero, si navigava a vista. Le intercettazioni nell'inchiesta. La Guard conferma rialzo tassi, si teme impatto sui mutui. La Presidente della BCE, inflazione non è ancora vinta. Da banche misure per mitigare gli effetti su chi si vedrà aumentare le rate. Putin lancia la superbomba, ma Mosca è a corto di risorse e nelle battaglie a Bakhmut ha perso 500 uomini. Il conflitto in Ucraina ha sganciato l'ordigno da 1,5 tonnellate, progettato per colpire obiettivi protetti, pronti a usare qualsiasi mezzo. È un Trump show in vista delle elezioni, fermeremo la guerra. L'ex Presidente degli Stati Uniti, scatenato, promette anche di interrompere l'import dei prodotti dalla Cina. A Treviso, auto contro albero, muoiono due ragazze, tragedia in provincia, prima un sorpasso, poi lo schianto, grave il conducente. È accaduto nella notte tra sabato e domenica. A Torino, guerriglia anarchica, 37 denunciati. Identificate 350 persone, il Ministro Piantedosi, la tensione è gestita con equilibrio. Tema turismo, in primavera buco di 50.000 lavoratori, allarme di asso turismo dopo la ripresa, la Ministra Santanchè, lavoreremo assieme. Da Roma, domenica al Museo è stata un successo, il Ministro della Cultura San Giuliano, ingresso gratis anche per la festa della donna. Ferro e fuoco nel PIP, indagati con indagini ARPAC, Sarno, verifiche sulla qualità dell'area e sui terreni dopo l'incendio che ha distrutto residui di metalli pesanti. Indagini da parte dell'azienda regionale di protezione ambientale della Campania, che è intervenuta di concerto con i vigili del fuoco sul luogo dell'incendio che è divampato in un'azienda di recupero di lottami ferrosi in area PIP a Sarno. Da Salerno un 56enne cade dal quarto piano e muore. Ancora notizie dalla provincia di Salerno, da Angri, ti spezziamo le gambe, giornalista minacciato. San Michele di Serino ferito da colpo di fucile mentre era a casa. Da Benevento Conservatorio, intesa con il Comune, Palazzo degli Scalopi e San Vittorino, progetto per la valorizzazione. Da Salerno, Gaglione spiega The Economy of Francesco, il progetto del Papa per chiamare i giovani a plasmare il proprio futuro. Ponte Cagnano-Faiano, ritrovata la tredicenne scomparsa per giorni. Da Pellezzano, sconti sull'Atari, agli esercizi free slot. Manfredi renda pubblici i curricula degli staffisti. La polemica, Fulvio Martuscello punta il dito sulle nomine, chiede chiarezza, prosegue il botta e risposta. Con la Savastano, la nomina di Cinquegrana ha sollevato un vespaio in Forza Italia. Il sindaco dica quali sono stati i criteri per la scelta di questi nove collaboratori. Il Metropolitan domani al MIC il tavolo di lavoro, raggiunte già le 700 firme per la petizione che verrà consegnata al Ministro San Giuliano. Aloisio, interrogazione in Parlamento. La cultura in vendita. Violenza in ospedale, non curiamo più. Sanità malata, resta in carcere il 41enne che ha picchiato, il ginecologo della Van Vitelli, il rettore. Segnale allarmante. La CISL parte civile nei processi contro gli aggressori, fuga dai pronto soccorso. La tecnologia buona, sicurezza, si riparte dagli impianti di videosorveglianza. Vergara, a disposizione del pubblico i sistemi della vigilanza privata. Patriarca, a Napoli attivo il 72%. Puscher massacrati alla torretta e guerra dopo la cattura del RAS. Chiaia, frizziero indeboliti dall'arrivo di Alvino, dall'arresto di Alvino. I sette soldi si prendono la torretta. Pestati a sangue cinque spacciatori, i fari delle indagini puntati sugli strazzullo. Gli aguzzini dei notturno vogliono lo sconto. I racket degli alloggi popolari al lotto P di Scampia. Marino e Pandolfi chiedono il rito abbreviato. Insulta ai clienti dell'ufficio postale, poi si scaglia pure contro gli agenti. E paura al vomero denunciato uno straniero. Notte di sangue all'arenaccia. La mala Napoli ha coltellato il 22enne Francesco Barriale. Volevano rapinarmi un altro ragazzo massacrato a Forcella. Carta di identità rubata per prelevare. 45 anni nei guai. Controlli al vasto. La polizia interviene in un internet point di via Bologna e denuncia un extra comunitario. Fuga show alle case nuove coppia in manette criminalità bloccate in corso Umberto I. I due giovani hanno aggredito gli agenti. Pusher bloccato in piazza nazionale. Brucia l'azienda di autotrasporti a Giuliano. Il rogo nella notte a Barcaturo in via Santa Maria Cubito. Danni ingenti. Non si esclude la matrice dolosa. A Pozzuoli donare gli organi evento ad Agnano organizzato dal servizio divulgazione per la tutela della salute della regione Campania diretto dalla dottoressa Focaccio. Cora con il Roma. Colpi di mitra nella notte stesa in centro. Accardito l'auto del commando usata come ariete per sfondare il portone in ferro. Poi la sventagliata di Kalashnikov. Guerria urbana a pochi passi dal comune. Nel cortile abita un pregiudicato. Da Caevano cercano di spostare auto tra volte in cinque. Lo schianto e il veicolo restano a centro strada. I samaritani aiutano il giovane investito. La torre annunziata addosso la cocaina, droga in auto e in casa. Arrestata spacciatrice di 25 anni. Danneggiata auto dell'associazione La Battaglia di Andrea. Adafragò l'atto intimidatorio contro chi difende i diritti dei portatori di disabilità. L'attesa già legata alla sfida con l'Atalanta. Napoli nessun timore. Dopo la sconfitta si è sempre aperto un ciclo di vittorie. Gli azzurri non hanno mai accusato il colpo per un K.O. Lo scudetto resta blindato ma si deve riprendere a correre. Spalletti è sereno perché la sua squadra non è mai uscita dalle partite. Sabato contro l'Atalanta servirà la prova del 9. La ripresa. Spalletti valuterà alcuni ballottaggi contro l'Atalanta. Previsti dei cambi rispetto alla Lazio. Poi dopo l'Atalanta la sfida contro l'Ektrat. Il match di ritorno negli ottavi di Champions. Il corsivo di Salvatore Cagliazza. Il vero Sarri solo con il Napoli alla Lazio è diventato comune. Maradona tutto azzurro contro l'Atalanta. Vietata la vendita dei biglietti ai tifosi bergamaschi per ordine pubblico. Sabato lo stadio sarà solo dei napoletani. Nessun obbligo di Fidelity Card potranno comprare tagliandi anche i gruppi della curva B che non si sono tesserati. Si prevede un altro pienone. Si spera che possano essere sventolate nuovamente le bandiere dopo i due mesi di punizione. Rimane l'invito a De Laurentiis per poter trovare un accordo sulle coreografie in tutte le partite casalinghe. Ancora con il Napoli. Con il presidente De Laurentiis in compagnia dei vertici del calcio italiano. L'evento il presidente del Napoli riappare in pubblico per il dibattito su calcio e diritto insieme ai presidenti di Lega e Federazione. Il patron parteciperà al convegno per l'inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana sulla giudicità delle regole del gioco del calcio. In Italia l'Università della Campania nella sede di Santa Maria Capo Avetere. Weekend libero. Simen a Parigi, Lozano a Roccaraso, tante idee per i giocatori che hanno sfruttato i due giorni di riposo. Simeone a Madrid, Politano è rimasto in città. Pagine nazionali di Repubblica. Ci servono immigrati. Inchiesta sul lavoro. Dall'industria all'agricoltura, l'appello degli imprenditori. Vogliamo più stranieri. Il caso del Veneto. Il governo prepara l'ingresso dall'estero di 100.000 persone. Aziende e famiglie ne chiedono il doppio. E così l'ONU salverà il blu degli oceani, il piano per le zone protette contro l'inquinamento. Le imprese al governo. L'Italia ha bisogno di 200.000 migranti. L'esecutivo prepara un decreto per 100.000 ingressi di cittadini extra-UE, ma dall'agricoltura alla logistica al turismo ne servono molti di più. Quote riservate per i paesi che accettano di far rimpatriare gli irregolari. Anche le famiglie in affanno, l'assistenza agli anziani regge solo grazie a loro. Ormai nell'RSA oltre il 50% del personale straniero facilitare il riconoscimento dei titoli di studio esteri. Il Veneto non fa più figli e ha cambiato idea. Ora passi lo straniero. Rumeni, albanesi e marocchini. Il boom anni 90 è un modello anche di integrazione. Le imprese al nord-est fanno fatica a trovare personale e soffrono il callo demografico. Servono 5 mesi per un profilo qualificato e si cerca nel raggio di 50 chilometri. E tutti dal turismo all'edilizia e trasporti chiedono più stranieri. Cantieri PNRR a rischio. Prendiamo i profughi con vito e alloggio. Le nostre imprese si ritroveranno nel giro di un anno ad aver bisogno del 30% in più di personale nel mercato del lavoro. È sempre più difficile trovarlo. Parla Vito Miceli, presidente di Ancefer. La legge Bossi Fini è figlia di un'altra epoca. È il momento di riprendere tutto in mano. Enrico Carraro Guida, degli industriali veneti. Abdallah Kerzai, imprenditore marocchino. Servono il contrasto all'illegalità, ma anche stipendi per farsi una casa. Non siamo stracci. Parla anche un ingegnere di Bassano, Alberto Favero. La carenza di personale ha sbilanciato tutto. Bisogna aumentare i flussi. Immigrazione nel governo è resa dei conti. Meloni blocca la stretta sull'accoglienza. La Premier convoca piante dosi e congella le nuove norme mutuate dai decreti Salvini. A Cutro il Consiglio dei Ministri porterà appena più dura gli scafisti e forse regole riscritte sui salvataggi in mare. Un pool di avvocati di grido assisterà gratuitamente ai familiari delle vittime del naufragio. Le indagini adesso finiscono sotto accusa. Pure i ritardi nei soccorsi a terra. Persi 30 minuti decisivi. Schlein, dialogo con Conte Calenda. Lo scoglio presidenza per Bonaccini. La leader, nessuna scissione. Dubbi di Guerini sulla segreteria unitaria. Prodi, le alleanze vengono dopo. Del Rio, Elli. Entusiasma, non temo più sinistra, ma il PD parli a tutti. Attenzione alla famiglia. Intervista all'ex ministro Dem. Meloni e Valditara, testa in giù. Il preside, la scuola non è una curva. Al responsabile del liceo Carducci, il plauso del ministro che critico invece Savino a Firenze. Affinati nelle aule, bisogna costruire il vivere civile. Parlare anche a chi alza muri. Intervista allo scrittore e insegnante. Puntare su gesti comuni, non sulle identità. Piante e dosi mostra uno scarto lacerante con la vita. Ancora con Repubblica, CDP offre 18 miliardi a TIM per rinazionalizzare la rete. Via libera la proposta che vede la controllata del tesoro alleata con il fondo Macchiere. Mossa successiva dopo l'ok dell'antitrust UE, la fusione con la concorrente Open Fiber. La risposta potrebbe arrivare già al prossimo CDA nel 15 marzo, ma il mercato ora si aspetta un rilancio da parte del fondo di investimento KKR. Lo scenario sul progetto vanno sciolti i dubbi della concorrenza UE e di Palazzo Chigi. Il caro vita, i mutui saliranno ancora. La BCE a governi e banche, aiutate le famiglie. A marzo, costo del denaro su di mezzo punto, la Gard niegoziare i prestiti. Andiamo anche con i dettagli dalla regione Repubblica Napoli. Migliaia di persone nei musei e nei siti d'arte Pompei, oltre il muro dei 20 mila. La domenica gratis, record in città dal Manna Palazzo Reale a Capodimonte, folla sul lungomare per il bel tempo, paralisi traffico in centro. L'area archeologica è in cima alla classifica italiana, successo anche alla reggia di Caserta. Medico aggredito in pronto soccorso al paziente non piaceva la diagnosi all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Migliaia nei musei e sul lungomare, ma il traffico si blocca. Cifre record per la domenica gratuita, Pompei primo sito italiano con oltre 20 mila visitatori. La reggia di Caserta sfiora i 10 mila. Boom in città tra Palazzo Reale, archeologico, Sant'Elmo. Capodimonte prepara la grande mostra sugli spagnoli nella Napoli del Rinascimento. L'anteprima viene inaugurata il 13 marzo al Museo Real Bosco, resterà fino al 25 giugno in partenariato con il Museo Nacional del Prado. E a Pasqua Ischia paga l'effetto frana, si prevede un meno 40%. Gli albergatori non sono ottimisti, in tanti chiamano per chiedere informazioni. Migliore è la situazione per le altre perle del golfo, ma mancano i lavoratori. L'Isola Verde oggi ha l'ITB di Berlino protagonista di un evento con la Ministra Sant'Anché. Evitiamo ripercussioni. Nuova aggressione in ospedale. Monitor lanciato contro il medico. Violenza al San Leonardo di Castellammare. Il direttore ASL Napoli 3, posto di polizia qui e a Nola. Policlinico Van Vitelli è arrestato l'aggressore del ginecologo. Aveva colpito il dottore con un pugno. A Caivano cercano di spostare auto dopo incidente e cinque giovani feriti. Da Sarno fiamme in azienda di detriti ferrosi. Controlli da parte dell'ARPAC con le relative indagini. Tablet e telefonini già prima dei due anni. Rischio cyberbullismo. L'allarme dei pediatri. E poi anche il calcio in primo piano. De Laurentiis chiama e Spalletti risponde. Insieme fino al 2024. La mossa del presidente e il contratto del tecnico sarà prolungato dal club prima della scadenza. Il numero uno azzurro oggi all'inaugurazione della nuova cattedra all'Ateneo Van Vitelli. Nessun dramma. E 48 ore di vacanza la terapia per esorcizzare la sconfitta. Un pareggio d'oro a Genova. Paolo Sousa vede la salvezza per la sua salernitana. Egranata senza danni nello scontro salvezza sul campo di Marassi contro la Sampdoria. La squadra è in ripresa con il nuovo allenatore portoghese in panchina. 2.000 tifosi al seguito. Il basket. Ripartenza negativa per Napoli e Scafati. La Gevi va a K.O. con Varese. Non basta Wimbush all'esordio. Andiamo anche con Cronache di Napoli. Patto di ferro contro i Vigilia. Le cosche di Soccavo e Rione Traiano isolano i rivali che si sono rintanati nelle case. I nuovi Grimaldi e i gruppi della 99 lanciano l'offensiva finale. Gli investigatori dopo i due agguati in 24 ore sarà Escalation. Trovata morta in cella un caso di violenza nell'istituto di pena. E la svolta nell'inchiesta. Il decesso a Parigi poche ore dopo il fermo. Rinviata all'autopsia sul corpo di Gilda Amendola. La giovane avrebbe riferito l'episodio ai familiari. Monte Calvario ancora sangue nella Movida. Un 22enne ferito a coltellate frequenta personaggi dei Sibillo. Accardito con mando spara quei Kalashnikov contro una casa. I malviventi hanno sfondato il cancello e aperto il fuoco nel mirino l'abitazione di un 32enne. Rogo devasta il capannone di una ditta di autotrasporti. A Giuliano non si esclude la matrice dolosa. Scoperto un BNB a luci rosse nei guai titolari dipendenti. Sono di Sant'Anastasia, Mariano e Somma Vesuviana. Il Napoli, Quaraschelia si scusa per l'errore. Suona la carica al gruppo. Con l'Atalanta ci penso io. Spalletti frena sul turnover. Sabato la sfida con gli aerobici. Tema stadio. I gruppi vogliono incontrare De Laurentiis. L'Inter torna a meno 15. La Roma batte la Juve. Andiamo anche con cronache di Caserta. Caserta, Urlo, Liurni, Casertana infinita. In serie D la squadra rosso-blu avanti con Ferrari. Viene rimontata dai padroni di casa. Poi il gol di Taurino e il miracolo in pieno recupero. Partita pazza a Tivoli. L'attaccante la decide all'ultimo secondo. 3-2 finale per gli ospiti e terzo posto in solitaria. Stop a padrini e madrine ai battesimi. I parroci troppe volte non hanno accompagnato i bimbi. La scelta della diocesi di Sessateano Calvi. Fedeli disorientati ma i sacerdoti spiegano. Decisione che sperimenteremo per tre anni. Scoperto BNB a luci rosse nei guai in 4. Prostituzione nella struttura. Divieto di dimora per il titolare di Castelvolturno. Obbligo di firma per tre dipendenti. A Maddaloni centro-sinistra. A Mataluna cede il passo a Verdicchio. Si apre il balzer delle candidature. Telefoni cellulari in cella. In 42 finiscono a processo. Sono di Capua, dell'Agro Aversano e del Litorale. San Nicola la strada. Bilancio e rifiuti. Summit in vista tra i capogruppo. A Casal di Principe amministrative. Definito il team di Simeone. Da Caserta, Parco degli Aranci. Il buco resta ma c'è l'idea di una pista di atletica. La proposta non convince i residenti. Botte ai poliziotti arrestati in due. Ad Aversa presi un 22enne e una 25enne. Le cronache da Salerno. Neonato muore durante il parto. Avvisi di garanzia per medici di ginecologia. Al Ruggi ancora una brutta notizia. Gli agenti di polizia di via Pisacane li hanno notificati dopo l'inchiesta partita dalla denuncia di una famiglia di Angri. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo e di concorso. Almeno 8 le persone sotto inchiesta. Salernitana piccolo passo verso la salvezza. Candreva sbaglia un gol fatto. Peccato per l'occasione persa. Ammarassi. I Granata ritornano a far punti in trasferta contro una modesta Samp. L'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento si guadagna meglio che a Palazzo Chigi. Due dipendenti hanno incassato stipendi per 90 e 120 mila euro. Le aree grigie restano tra debiti, funzioni cedute fittiziamente e gestione disinvolta. L'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento si guadagna meglio che a Palazzo Chigi. Due dipendenti dell'Associazione nel 2022 hanno incassato stipendi per 90 e 120 mila euro. Consuntivi e rendiconti fuori dai termini di legge poste. Nebulose. Medici sotto accusa avvisi di garanzia. Il caso ancora polemiche all'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona per una tragedia che si è registrata ad agosto. Neonato morto, la famiglia è originaria di Angri e chiede verità e giustizia. Sotto accusa sarebbe finito anche un noto primario del nosocomio locale. Pestaggio in posteggio in via Lungomare il no a Pietrofesa. Il tarra ha respinto il ricorso presentato per l'occupazione dello stallo ancora vacante. Antistante, piazza del Marinaio. Posteggio in via Lungomare. Il no che arriva. Migranti morti. Il forum antirazzista scende in piazza. Basta tragedie così. Sabato sera, lungo il corso cittadino, attivisti e militanti hanno distribuito volantini. Da Roma ora si attende risposta. Botte Salerno-Città-Cogliente non possiamo dimostrarci indifferenti. Diverse le richieste avanzate, nuove iniziative sono state già calendarizzate. La prima della città. Salernitana pari e patta. Un punto contro l'ultima. Genova 0-0 con la Samp. Manca il gol. Strada lunga per la salvezza. Una gara buona ma dobbiamo anche creare. L'allenatore Paolo Sosa il commento post-gara. La Passione Granata in 3.000 al Ferraris con Gierbolino presente allo stadio. Cade nel vuoto e muore. Si indaga. Cronaca Salerno-Shock al Rione Carmine. Perde la vita commerciante 56enne. Ipotesi incidente. Da Nocera ride vandalico e furti alle auto, danni e disagi. Ad Eboli Ultras nel liceo ora rischiano una denuncia. Gli incassi dei comuni. I tributi pesano 602 euro a cittadino. Da battipaglia scure sulla movida rumorosa. Controlli notturni dell'ARPAC dopo le lamentele dei residenti. Andiamo sul nostro sito www.ottopagine.it. Nel dettaglio dall'apertura. Terrore sul treno Napoli-Roma. Passeggeri minacciati con forbici da nigeriano. Il sovrintendente del corpo di polizia penitenziaria ha evitato il peggio. Aggressore fermato. Verso le ore 13.30 un uomo di origini nigeriane armato di forbici ha minacciato i passeggeri sul treno Napoli-Roma nei pressi di Latina. Dopo l'allarme del capotreno provvidenziale è stato l'intervento di un poliziotto penitenziario in viaggio per assumere servizio presso il carcere romano di Regina Celi. Che dopo una colluttazione con non poche difficoltà è riuscito a disarmare e bloccare il malintenzionato. L'uomo con gravi precedenti penali è stato tratto in arresto e sarà processato nelle prossime ore per direttissima. Lo riferisce Gennarino De Fazio, segretario generale della Wilpa Polizia Penitenziaria. In prima da caserta fuga infermieri De Palma in 7.000 verso l'estero negli ultimi anni. Situazione drammatica in Campania come nel resto d'Italia. Nursing up De Palma, 7.000 giovani infermieri italiani sono fuggiti all'estero negli ultimi anni e oltre la metà di loro trovate condizioni ideali in altre realtà europee e non avrebbe affatto intenzione di tornare. Lo rivela una curata indagine del team di divisione engineering e manufacturing di Hunter Group, società internazionale specializzata nella ricerca e selezione di personale altamente qualificato. Ancora in prima da cardito colpi di Kalashnikov in un condominio terrore, prima sfondano il cortile con l'auto, poi sparano senza interruzione. Ad Avellino rifiuti, no allo spezzatino, l'ingresso del privato sarebbe pericoloso. Prosegue il presidio dei sindacati nella tenda della Resistenza, riassetto dei rifiuti in Irpini, allo scontro non accenna a placarsi, anzi il presidente della provincia Rizzieri, Bonopane, rincara la dose e boccia la scissione di festa dal lato. Così non si risparmia, anzi si favorisce una diseconomia di scala. Intanto il futuro di Irpini e Ambiente è ancora un'incognita, i lavoratori sono da giorni in presidio in Piazza Libertà con la tenda della Resistenza, protestano contro la divisione dei dipendenti tra la società mista che costituirà il comune di Avellino con un partner privato, la grande SRL e la new co completamente pubblica a cui sta lavorando l'autorifiuti e che riutilizzerà quale braccio operativo proprio il ramo d'azienda della società provinciale di via Cannaviello. Ancora Avellino, il basket, la terza vittoria consecutiva per l'Ibpc del festa Avellino, sala consiglina K.O. sull'Arienti a referto non va a segno per la squadra Irpina, in netta crescita con coach Crosariol. Da Benevento pari al Liberati con la Ternana per la formazione giallorossa che ottiene un punto contro la squadra di Lucarelli, pareggio al Liberati, succede tutto nel primo tempo, le ferie hanno trovato il vantaggio dopo sette minuti con Mantovani, poi al ventesimo è arrivato il pareggio di Acampora con una conclusione dal limite che non ha lasciato scampo a Iannarilli. Il botta e risposta tra le due squadre è proseguito al trentaduesimo con la marcatura di Coulibaly sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il Benevento a pochi istanti dal duplice fischio ha rimediato il 2-2 con Teglio, nella ripresa ha regnato l'equilibrio anche se la Ternana ha colpito tre volte i legni della porta di Paleari con Martella e Diachite oltre a un autopalo di Letizia. Ancora con Benevento, domenica al Museo e il Teatro Romano raddoppia e si prepara a nuove sfide, Creta ha metà giornata 170 visitatori, per la prossima prima domenica del mese anche altre iniziative. Salerno, Sampdoria, Salernitana 00, Continuità, Paolo Sosa, Paridoro, Marassi, Celiachia, identificato un sottotipo di anticorpi utile per la diagnosi precoce. La scoperta parla Salernitano con i dottori Fasano e Balitutti. Un sottotipo di anticorpi, l'antijadina diamidata di tipo IgG, potrebbe aiutare la diagnosi precoce della celiachia nei bambini, in quanto rivela una pubblicazione dello studio realizzato in collaborazione con la Fondazione Ebris di Salerno. Andiamo anche con Caserta. Nel dettaglio, la fuga degli infermieri De Palma in 7000 verso l'estero negli ultimi anni. È tutto per la rassegna stampa, ringrazio in regia Aldo Fenizia, restate con noi, restate sul canale 16, su 8 Channel. Grazie.